Ciao ragazze, ciao a tutti! Allora in questo video vedremo come realizzare questa bellissima stella di Natale. Questa l'ho realizzata, questa qui che vedete, con la lana ed è venuta un pochino più grande e molto molto carina. Questa invece ha le foglioline completamente in lurex e ho aggiunto un cabochon che ho realizzato io con la resina. Ed è veramente molto molto carina. Nel tutorial vi insegnerò invece a fare questa, che è praticamente uguale, però ho utilizzato un cotone in modo da poter vedere meglio la lavorazione. Voi naturalmente potete scegliere qualsiasi tipo di filato, dalla lana al cotone, potete mischiare, potete usare il lurex, potete usare quello che vi pare per poter dar vita a questa stella di Natale. La realizzazione è veramente molto molto semplice, questo è il risultato come potete vedere e lo potete usare per qualsiasi tipo di ornamento, per decorare la vostra casa, un pacchetto regalo o sull'albero di Natale magari la fate un pochino più indurita, l'andate ad indurire con la vinavil o comunque con una colla molto plasticosa che lasci quindi piuttosto rigida la lavorazione. In questo caso l'abbiamo lasciato molto morbida e quindi la potete usare per qualsiasi tipo di ornamento che voi vogliate. Spero come al solito che il tutorial sia chiaro e quindi vi lascio al video. Un bacio a tutti! Vado a prendere un uncinetto numero 2 ed un filato numero 6. In questo caso il filato che utilizzo è abbastanza sottile, se voi lo avete un pochino più grande utilizzatelo, verrà una stella abbastanza grande. Cominciamo realizzando il cerchio magico. Eccoci qua. Una volta che ho realizzato il nostro cerchio magico devo fare all'interno di questo sette maglie basse che saranno praticamente i sette petali successivi. Quindi in ogni maglia bassa poi faremo un petalo. Procedo e faccio sette maglie basse. Quindi uno... Realizzate le sette maglie basse vado a chiudere il mio cerchio magico. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa e vado a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo. A questo punto devo realizzare dieci catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Mantenete le catenelle abbastanza larghe perché poi ci dovremo lavorare dentro. Vado a fare delle maglie altissime. Quindi metto il filo due volte sull'uncinetto. In questo modo. La maglia altissima la dovrò puntare nella settima catenella a partire dall'alto. Quindi conto uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Nella settima vado, inserisco il mio uncinetto e chiudo man mano a due e due le maglie. Quindi chiudo le prime due. Chiudo le seconde due. Chiudo le terze due. E ho fatto la prima maglia altissima. Andiamo a fare un'altra maglia altissima. Uno, due volte sull'uncinetto. Inserisco sempre nella settima catenella. Questa sarà la catenella in cui andremo a lavorare. E andiamo a chiudere le prime due. Le seconde due. E le terze due. Andiamo a realizzare un'altra maglia altissima, sempre nella stessa catenella. Quindi chiudiamo. Dopo aver realizzato tre maglie altissime, andiamo a fare sei catenelle. Sarà il nostro picot. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Chiudiamo questo picot nella prima catenella che ho realizzato. Quindi questa e non quella relativa alla maglia altissima. Questa, che è la prima, vado a chiuderla con una maglia bassissima. In questo modo, vedete, abbiamo chiuso questo picot e queste sono le maglie altissime. Devo fare tre maglie altissime, sempre nella stessa catenella di base. Quindi procedo, vado a fare la prima. Ho realizzato tre maglie altissime ancora, dopo il nostro picot. A questo punto, devo fare sei catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E le devo chiudere sempre in questa catenella di base. Con una maglia bassissima. In questo modo. Se girate il lavoro, vi vedete questo risultato. Qua abbiamo fatto le catenelle, tre maglie altissime, il picot di sei catenelle, tre maglie altissime, sei catenelle sempre chiuse qua dentro. Adesso dobbiamo ritornare sul nostro cerchio magico con tre catenelle. Una, due, tre. E puntiamo con una maglia bassissima nella catenella da cui siamo uscite. Quindi qua dentro. Vado, prendo il filo dietro e chiudo con una maglia bassissima. L'inizio del nostro primo petalo è stato fatto. Adesso mi devo spostare nella maglia adiacente. Questa, che vedete. Quindi mi trovo in una maglia del nostro cerchio magico, vado nella successiva. Vado E chiudo Con una maglia bassissima. Bene, mi sono spostata di maglia. A questo punto devo ripetere esattamente tutta la procedura che avete visto qui. Quindi, inizio con il fare dieci catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. La maglia altissima nella settima a partire da su. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei nella settima. Chiudo le prime due. Chiudo le seconde due. Chiudo le terze due. E poi procedo esattamente come in questo step. Devo fare esattamente la stessa cosa. Dopo che avrò finito, mi sposterò di nuovo di una maglia e farò di nuovo un altro petalo. Finché non avrò ricoperto tutto il cerchio magico, facendo in ogni maglia di base un petalo. Dopodiché vediamo come continuare. Una volta che abbiamo terminato tutto il giro, ci troviamo con questa situazione. Ho terminato i sette petali. A questo punto devo procedere a lavorare attorno al petalo che ho lavorato prima. Quindi, che cosa farò? In tutte le catenelle che abbiamo realizzato, quindi le prime dieci, andrò a realizzare delle maglie basse. Io qui ho fatto una maglia bassissima. Mi sposto nella catenella successiva, quella relativa al petalo, e inizio a fare delle maglie basse. Mi sposto nell'altra catenella. Se trovate un po' di difficoltà, aiutatevi con l'uncinetto. Prendo e faccio un'altra maglia bassa. Mi aiuto con l'uncinetto, entro nella successiva e faccio una maglia bassa. Tutto questo finché non arrivo alla fine delle mie catenelle. Una volta che sono arrivata in cima, vedete, ho fatto tutte le catenelle accompagnate dalle maglie basse. Mi ritrovo con le mie maglie altissime da lavorare. Bene, nella prima maglia altissima devo fare due maglie alte. Quindi un filo sull'uncinetto, inserisco nella mia maglia di base e faccio la mia maglia alta. Prendo di nuovo e faccio la seconda maglia alta. Nella maglia altissima successiva devo fare due maglie altissime. Quindi metto due volte il filo sull'uncinetto, vado e faccio la prima. E vado con la seconda, sempre nella stessa maglia di base. Nella maglia altissima successiva faccio sempre due maglie altissime. Quindi la prima e la seconda. Procedo. Mi ritrovo nel picot. Bene, nel picot dovremo fare tre maglie altissime. Quindi procedo. Faccio la prima. La seconda. La terza. Dopodiché realizzo una maglia alta tripla. Quindi uno, due, tre. E vado a farla sempre in questo picot. Quindi chiudo le prime due. Chiudo le seconde due. Chiudo le terze. e anche le ultime. A questo punto devo realizzare quattro catenelle e chiuderle a picot. Uno, due, tre, quattro. Inserisco l'uncinetto nella prima catenella. Inserisco l'uncinetto nella prima catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima. Realizzo la prima catenella e vado a chiudere con una maglia alta tripla. Quindi uno, due, tre. Sempre nello stesso picot. Uno, due, tre e quattro. e tre maglie altissime. Quindi la prima. La seconda. La terza. Bene, abbiamo lavorato tutte quante le maglie dentro al picot. Adesso mi rimangono le tre maglie altissime di base. Dovremo fare la cosa speculare alla parte iniziale. Quindi andrò a fare due maglie altissime nella prima maglia di base. Quindi uno e due. Poi due maglie altissime nella successiva. E infine due maglie alte nell'ultima. Bene. Arrivate a questo punto. Devo ritornare nella mia parte centrale facendo le maglie basse in ogni catenella di base. Quindi prendo con la santa pazienza, mi aiuto con il mio uncinetto e vado a fare le mie maglie basse. Ecco perché vi dicevo di mantenerle abbastanza larghe le catenelle, perché poi andremo a lavorarci dentro. Quindi in ogni catenella vado a realizzare una maglia bassa. realizzate tutte le maglie basse, vedete questo è il risultato e il nostro petalo è perfettamente terminato. Andiamo a passare dall'altra parte e andiamo a ripetere esattamente questa procedura anche dall'altra parte. Quindi inizio facendo le mie maglie basse nelle catenelle. Mi aiuto con l'uncinetto e inizio con la prima. Procedo con la seconda e man mano vado a ripetere esattamente la procedura che ho fatto per questo petalo. Quindi andate indietro nel video, vedete come lo abbiamo realizzato e ripetiamo tutta quanta la sequenza per tutti e sette i petali. Alla fine il nostro fiore sarà terminato. Una volta che ho terminato tutti i petali vado a chiudere con una maglia bassissima nel mio cerchio magico. Quindi prendo l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima, tiro il filo e taglio. A questo punto vado a nascondere questi due fili all'interno della lavorazione. Il prossimo step è quello di sistemare un pochino i petali, allargarli, metterli uno a fianco all'altro ed incollarli giusto un pochino tra le foglie, tra i petali appunto qui, in modo da dare la forma. Una volta che ho dato la forma desiderata, quindi questa mi soddisfa, vado giusto a mettere un punto di colla laddove si uniscono i petali. Utilizzo questa colla della Pritt che è molto molto buona, è per il bricolage e mi trovo molto bene. Non vi preoccupate se la vedete bianca perché una volta asciugata diventerà completamente trasparente e non si muoverà più la creazione. Scelgo anche un componente per il centro sul giallino e lo vado ad incollare questa volta con quest'altra colla. della Pritt oppure lo potete fare con la colla a caldo. Posso anche decidere di inserire dello smalto glitterato sulla parte davanti in modo da rendere la creazione un po' più brillantinosa. Se voglio aggiungervi delle foglioline le faccio esattamente con lo stesso schema del petalo. In questo caso ho utilizzato due cotoni insieme, uno l'urex e l'altro invece un numero mi sembra 8. Li ho usati tutti e due insieme in modo che venga una foglia un po' più grande. Non ho cominciato con il cerchio magico, iniziate direttamente con le catenelle, quindi se ne dovete fare 10 io qua le ho fatte un pochino di più in modo che questa parte, questa, che corrisponde a queste 3 catenelle di qui, venga un pochino più lunga. Quindi ho fatto queste foglie. A questo punto decido di inserirle sotto la mia stella di Natale. Decido il punto e vado sempre ad incollarle con la colla. Come vedete la creazione non viene inamidata, però voi se volete dare un senso di rigidità potete utilizzare la lacca e dare una spruzzata, anche due. Io uso questa della Splendor che ha un fissaggio forte. Dopodiché la vostra stella di Natale è terminata e spero che come al solito il tutorial sia stato chiaro, vi sia utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao ciao!